Salve ragazzi, questo è il nuovo vlog di Anime Manga Ita Perché sto facendo questo vlog? Perché ho questa luce che fa così? Bene, ci sono tante cose di cui dobbiamo parlare Numero uno, ho il telefono Quello che uso per le riprese è praticamente mezzo impallato Quindi può essere che l'audio di questo video sia un po' per i cazzi suoi Ma non lo posso montare il video perché mi ritrovo con un computer del cazzo In quanto il mio è depunto Sì, mi ritrovo con un computer del cazzo in questo momento Per intenderci questo di qua, un notebook del cazzo Per lo più di mia madre e neanche mio E quindi, e quindi, e quindi, e quindi Sti cazzi, non posso montare niente E allora voi vi direte Ah, quindi questa settimana niente video? Bordello? No, il video forse ci sarà Ma non mio Credo di Kusanagi Perché o il mio lo monta qualcun altro E deve stare attento al problema dell'audio Che è un macello Oppure Qualcuno oppure un altro video Però ovviamente non quello di seo Perché quello di là lo voglio io a tutti i costi Detto questo Spero di avervi dato tante informazioni Questo video probabilmente Nonostante duri un minuto e venti Sarà tipo di 250 mega 300 mega Che di solito, visto che non lo posso renderizzare Va tutta puttana E niente, niente, niente Spero di avervi detto tutto Spero che ci continuate a seguire E qua Trovate il nuovo video Che ho fatto per i ragazzi di SDR Channel Andatela a guardare Parlo di una cosa che questo canale non tratteremo mai Ovvero di un anime mainstream Che è Tengen Top Agurrella Gan Ci sarà in futuro un mio commento spoiler Come quello che utilizzeremo per la ghiottina del mainstream Che ovviamente sarà positivo Visto che nella recensione ne parlo positivamente Detto questo ragazzi Vi ringrazio ancora perché ci seguiate Perché ci seguite Perché ci seguiate E non posso montare il video ovviamente Perché quindi Sto improvvisando tutto quello che devo dire E vi ringrazio ancora E ci sentiamo alla prossima occasione Sperando che il mio computer risorga E che la prossima settimana Possa rilasciare finalmente Quel cacchio di Sao Il commento E vi annuncio Che lo sputtano Detto questo Alla prossima Ciao